Verissimo. San Giovanni fa una confessione. Prima di Amici non mi sono mai sentito adatto. Mancano poche ore ad Amici 2021 finale e i cinque ragazzi rimasti in gara sono stati ospiti a Verissimo, in collegamento. Con ognuno di loro Silvia Toffanin ha ripercorso i mesi vissuti ad Amici 20, con i momenti brutti e quelli belli. Il primo è stato San Giovanni, dato come favorito per la vittoria della categoria Canto. Dunque San Giovanni a Verissimo ha spiegato che prima di Amici si sentiva sempre sbagliato. Mentre nel Talent la sua diversità è riuscita ad essere apprezzata. Infatti ha detto, non do la colpa a nessuno però ho vissuto dei contesti in cui non mi sono mai sentito adatto. San Giovanni racconta un momento doloroso a Verissimo. Non ci sono mai riuscito. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin San Giovanni ha dunque parlato dei momenti in cui si sentiva un pesce fuor d'acqua. In effetti durante Amici San Giovanni ha mostrato sempre una personalità unica e particolare. Ma se nella scuola questa unicità è stata punto di forza, fuori no. Infatti il cantante a Verissimo ha spiegato di essersi sentito spesso non accettato. Poi San Giovanni fa una dedica a Giulia e dice, Amici è il primo posto in cui la mia diversità non è stata un peso. E, stata accettata, apprezzata e compresa. E, una cosa che ho sempre sognato di ricevere ma non ci sono mai riuscito. San Giovanni ammette a Verissimo. Amici è il mio riscatto. Con Amici San Giovanni è riuscito a sentirsi bene, accettato e non fuori posto. Per lui il percorso è stato importante sia dal punto di vista artistico che umano. Infatti a Verissimo San Giovanni ha detto, Amici è stato il mio riscatto. Poi il cantante ha parlato anche di Giulia Stabile, sua attuale fidanzata. Il cantante ha detto che quando la vede felice sul palco è come se quella felicità fosse la sua.